ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come completare l'ultima missione relativa ai coralli si tratta di una sfida segreta in fortnite come le precedenti la prima sfida richiedeva di dare del legno ai coralli la seconda sfida di dare della pietra in questa sfida indovinate un po che cosa dovete dare ovviamente il metallo il luogo è sempre lo stesso questa piccola isola situata sul castello corallino nella parte più a nord della mappa vedete qui al punto b1 o 1b quindi raggiungete quei due isolotti e questa volta dovete dare del metallo ai coralli il mio consiglio è quello di fare la sfida in questione in modalità rissa squadre perché come vedete avete già 150 unità di metallo a disposizione e avete bisogno soltanto di 100 unità quindi diciamo è una sfida che in modalità rissa squadre si fa praticamente subito quindi raggiungete questa isola qui nella parte alta praticamente e vi avvicinate al gruppo di coralli che sta aspettando con impazienza il vostro aiuto quindi non la città non le piramidi ma il razzo quindi donate 100 di metallo e verso l'infinito e oltre sarà vostra ciao 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 ciao